ciao ragazze ciao a tutte quinto video del quello ciclico che sto facendo di disegnando aprile di travelers notebook italia oggi ci sono i giorni 17 18 19 eventi dei miei disegni e quindi vi lascio al video a dopo ciao e 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.